Runners e benessere eccoci qua ancora con voi oggi 9 di ottobre è un periodo che sembra di essere ancora in piena estate perché si riesce a allenare e correre ancora in magliettina con estrema tranquillità oggi andremo a Siena dove lo scorso venerdì 2 di settembre abbiamo ripreso la 5 Torri in notturna eravamo a Rapolano Terme lì abbiamo fatto delle riprese, delle interviste in questa corsa è una delle più storiche che c'è nel nostro panorama toscano e poi proprio loro gli amici del gruppo Riccardo Valenti di Rapolano Terme hanno festeggiato lo scorso 24 di settembre i loro primi 40 anni quindi auguri a questa società gloriosa e molto particolare della zona di Siena e soprattutto della loro manifestazione che è molto bella al centro di questa bellissima cittadina in più ovviamente grazie a tutti voi che oggi avete gareggiato e noi con le nostre telecamere vi abbiamo seguito nelle varie manifestazioni da Sinalunga ma soprattutto alla mezza maratona città di Pisa dove sicuramente c'era tantissime persone di voi oggi lì presenti ma le tante altre gare che erano sparse in tutto il nostro territorio ed erano veramente tante in Toscana anche questo fine settimana il prossimo fine settimana non vi resta che scegliere altre manifestazioni dove saremo presenti a partire dall'ecomaratonale del Chianti c'è ancora qualche posto non tanti ricordo 42, 21 km, 14 competitivi e i 10 km non competitivi a questo punto lì saremo a Castelnuovo e Berardenga domenica sempre nella zona di Siena non tanto distante dove andremo adesso con le nostre telecamere con il montaggio sempre a cura di Linda Betti andremo a vedere quello che è successo a Rapolano Terme continuate a seguirci su rannes.it e su Toscana TV appuntamento a domenica prossima seguite Rapolano Terme la buonasera a tutti voi eccoci qua Rapolano Terme per la 43esima edizione della 5 torri notturna tutto pronto oggi che è venerdì 2 settembre 2016 torna questo appuntamento importante siamo come ho detto a Rapolano dalle ore 20 inizieremo con le gare del settore giovanile che ovviamente riprenderemo poi a seguire alle 21.15 con la gara riservata al settore adulti con due giri del percorso di 4 km e mezzo da ripetere due volte classica manifestazione organizzata ovviamente in collaborazione con il patrocinio del comune di Rapolano Terme e poi dal gruppo spodistico Riccardo Valenti che da sempre organizza questa manifestazione tanti sono i partecipanti già iscritti ben 400 nelle prescrizioni andremo a vedere perché sarà una serata molto intensa in questo bellissimo paese vicino alla zona di Siena ripeto Rapolano Terme tutto pronto per la 5 torri in notturna 43esima edizione andiamo a vedere quello che è successo a partire dalle categorie settore giovanile Emiliano Spano che è qui con noi grande manifestazione lo scorso anno era piovuto quest'anno cielo perfetto partecipazione i primi numeri sono circa 400 competitivi 100 non competitivi poi passeggiatori e 100 ragazzi che hanno dato vita e lustro a questa manifestazione 43 edizioni sono veramente tanto di queste 5 torri in notturna sì 43 anni di questa edizione con numeri come ricordavi prima sono veramente una soddisfazione non solo per l'associazione che organizza ma credo anche per il territorio che li ospita tutti gli anni e questo tempo quest'anno forse è anche un po' troppo affoso credo per i corridori perché effettivamente dopo la pioggia dell'anno scorso credo comunque sia ha dato anche modo di poter partecipare a tutti nel migliore dei modi nella forma migliore 40 edizioni sono tante però credo un ringraziamento vada fatto a questa associazione che è veramente forte in un anno anche particolare dell'associazione l'anno che proprio il gruppo sportivo Riccardo Valenti il prossimo sabato 24 di settembre festeggerà qua i suoi 40 anni di attività noi ricordavamo prima come questa gara la giunta alla sua 43esima edizione quest'anno è una delle gare più antiche più storiche che c'è nel nostro regione ma forse anche a livello nazionale non ci sono tante gare che dire? dire soprattutto che 40 anni sono tanti è un bellissimo traguardo noi stiamo supportando questo evento come amministrazione comunale appunto sia l'evento che tutto il resto è una soddisfazione soprattutto anche per gli atleti che sono venuti fuori da 40 anni di attività e da 43 anni di 5 torri per cui penso che è una soddisfazione che si rinnova tutti gli anni e credo di rinnovare nuovamente quello che è un plauso a questa associazione è diversi anni che il sottoscritto viene a questa manifestazione per amicizia conosco ormai tantissime persone e soprattutto perché effettivamente è un bellissimo paese dove ci sono tante attività da fare dallo scorso anno a quest'anno c'è una persona in meno l'abbiamo ricordato più di una volta che dire del grande Bruno Amerini io penso da quando ci è venuto a mancare non c'è stata occasione sia sportiva che non anche di carattere di volontariato associativo dove non abbiamo ricordato Bruno e credo anche in tutte le manifestazioni che vengono fatte in provincia mi ricordo anche l'anno scorso alle comaratona del Chianti dove è stato ricordato credo sia una grossa soddisfazione per Nora Polanesi aver potuto vivere accanto e anche io personalmente che credo era più che diciamo un cittadino anche un amico una persona veramente cara che non smetteremo mai sicuramente di ricordare grazie sindaco per le sue parole e soprattutto complimenti per questa bellissima manifestazione grazie a voi la nostra intervista di dovere che dobbiamo fare col presidente qui del Riccardo Valenti Alberto Pulcinelli con noi allora ci siamo grande manifestazione abbiamo visto veramente tantissime persone oggi contenti felici i ragazzi i non competitivi ma soprattutto tanti competitivi presenti a questa 43esima edizione sì grazie quest'anno è una delle annate che abbiamo avuto il maggior numero di iscritti tra bambini non competitivi e competitivi si sta parlando di oltre 500 iscrizioni numero più numero meno ora verificheremo ma comunque un dato importante questo è che le persone sono state tutte soddisfatte entusiaste di questa manifestazione in questi casi si dice sempre che ringraziare sì il gruppo Valenti vive grazie all'aiuto di tutto il paese di una comunità intera e per cui commercianti amministrazione comunale sponsor rivoire a terme però ecco la gente semplice aiuta il gruppo Valenti il miglior modo per ricordare il vostro ex presidente Bruno Amerini e anche il miglior modo per introdurre il vostro quarantesimo compleanno anniversario chiamatelo come mi pare della nascita del vostro gruppo il miglior ricordo per dare un saluto a Bruno Amerini è quello che dare una continuità alla nostra società la serata di questa di questa sera la scusate il gioco di parole ma sono emozionato nel parlare nel ricordare sempre Bruno perché per noi era un oltre che un fondatore del gruppo Valenti l'ideatore delle cinque torri il padre il genitore che tutti teniamo dentro per cui ecco il miglior ricordo è quello di avere sempre delle manifestazioni con gioia come quella di stasera mi associo alle tue parole le faccio anche mia e quindi a questo punto ricordiamo cosa succederà il 24 di settembre ecco nel 1976 il gruppo Valenti è nato è stato fondato da me da Bruno e da tanti altri amici e quest'anno ricorre il quarantesimo il 24 di settembre presso il teatro del popolo di Rapolano Terme un'iniziativa dove si ripercorre con fotografie musica premi al premio Filippide premi dall'amministrazione insomma sarà una giornata di festa ripercorrendo ecco gli anni del gruppo Valenti naturalmente impossibile ricordare gli oltre 600 atleti che hanno indossato i colori bianco-verdi ma sarà un momento comunque di aggregazione per un'intera comunità bene grazie Alberto per queste importanti precisazioni e adesso andiamo a sentire perché no i vincitori di stasera musica 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 Grazie a tutti. 5 torri di Rapolano, Emanuele Fadda e Chiara Giacchi. La gara a rientro delle ferie, dicevamo, prima della gara. Sì, ciao a tutti. Oggi sono venuto qui per sciogliere un po' le gambe, visto che ho fatto 15 giorni di vacanza, ho corso poco e niente. Però è stata più dura del previsto, c'era anche molta concorrenza, specie questi giovani che mi hanno dato filo da torcere fino all'ultimo. Chiara? Eh, niente, io comincio la preparazione da poco e questa gara la faccio sempre come inizio, diciamo, dell'ultima parte di stagione su pista. Era un po' abbastanza carica di allenamenti, però ci tengo particolarmente a questa gara perché è la prima volta che l'ho vinta. Il momento in cui arrivavo moriva mia nonna e quindi oggi, appunto, è il quinto anniversario che è morta e cadeva proprio l'appunto 2 di settembre anche quest'anno. E quindi una soddisfazione in più? Una soddisfazione in più, sì, sì, diciamo che è corso con la voglia di arrivare in fondo e di vincere, insomma. Da un punto di vista tecnico abbiamo visto primo giro, passaggio in gruppo, poi noi eravamo qui, ti abbiamo rivisto arrivare solo. Quando hai dato la scossa decisiva? Sì, allora, per un giro e mezzo siamo stati abbastanza regolari, siamo rimasti io e Lorenzo Martinelli. Che, fra parentesi, poi è esploso abbastanza, ho visto, ha pagato Dazio. Fino alla salita stava molto bene, poi ho fatto un bello strappo in salita dove ho vado molto bene e poi non l'ho più visto. Però, diciamo che la gara è stata molto regolare fino anche alla salita, poi da lì ho dato il distacco agli avversari. Mentre abbiamo visto che in cima alla prima salita c'è stato il primo frazionamento con Francesca Barneschi che era l'avversaria di oggi. Sì, diciamo che sono partita in testo e ho fatto la mia gara, poi a un certo punto un attimino rallentato per recuperare il fiato e poi il secondo giro, la salita, sono andata via e da lì è stata una progressione fino in fondo, insomma. Qual è la cosa più bella di questa gara? È che, cioè, molto bella, queste gare dentro il paese a giri a me mi piacciono molto e quello è il bello di queste gare. A cosa ti piace? Vabbè, l'emozione che mi dà tutte le volte questa gara con la gente, insomma, che ti fa il tifo. Poi, insomma, Rapolano, Città e Bellina, insomma, mi piace. E quindi dopo un secondo posto qui con un duello con Cito, se non mi sbaglio, questa volta a primo posto l'appuntamento è per il BIS? E ora proviamo il prossimo anno, si tenta comunque. Il prossimo appuntamento? Il prossimo appuntamento è il campionato italiano a Foligno, domenica, sabato prossimo. Pomeriggio, 10 chilometri, ci sarò io. Ci vedremo lì allora. E per te, naturalmente, quattro vittorie, abbiamo detto, quindi non ci resta che cercare la mano intera. Ci riproviamo il prossimo anno. E anche per te l'appuntamento è lo stesso? Sì, 10 settembre a Foligno e poi a finale di CDS a fine settembre, questi sono due appuntamenti importanti. Bene, salutate tutti. Ciao a Toscana TV, da Emanuele Fadda, Chiara Ciacchi, Federico Bini. Ciao ciao. E siamo giunti così alla conclusione di questa 43esima edizione della 5 torri notturna a Rapolano Terme. Oggi 2 di settembre è stato uno spettacolo. 400 la parte competitiva degli atleti che hanno preso il via, ben 100 anche la parte dei non competitivi che hanno fatto 4 chilometri e mezzo e poi un centinaio i ragazzi e le ragazze che hanno preso il via nelle categorie giovanili. Tra gli adulti i 9 chilometri sono stati vinti da Emanuele Fadda davanti a Taos Zaccaria, rispettivamente della futura atletica, atletica futura e poi polisportiva Chianciano. E al terzo posto abbiamo avuto Monasci Alessandro del Greggio Ribelle. Al femminile Chiara Giacchi è stata la più brava della polisportiva di San Gimignano, davanti a Francesca Barneschi, podistica del Campino, e poi Marcella Monicchi della UISP Badia di San Salvadori. Con questo possiamo concludere questa bellissima manifestazione. Sono stati tanti gli amici di Siena, di Arezzo, di Grosseto e di Firenze che hanno deciso di essere presenti a questa bellissima manifestazione. Il comune di Rapolano ovviamente è stato lo sponsor principale dando il patrocino di questa manifestazione insieme alla regia attentissima del gruppo sportivo podistico Riccardo Valenti che ha messo su la sua bellissima manifestazione. Ricordo che il gruppo proprio fra qualche giorno festeggerà i suoi 40 anni di attività. È tutto quindi da Rapolano il modo migliore con questa splendida manifestazione per ricordare tutte le persone che il gruppo Riccardo Valenti di solito ricordano i loro trofei e in quest'anno in particolare per l'assenza di Bruno Amarini. A lui sicuramente va dedicata questa grande manifestazione, a tutti il resto che hanno lavorato, tutto il gruppo, tutto lo staff di Riccardo Valenti. Grandi, davvero bravi, bella manifestazione. Arrivederci, al prossimo anno a tutti voi. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.